Il pezzo che è dedicato alla nostra family, che è qui C'è la family? Dov'è la family? Che abbiamo scritto proprio per loro Ma aspetta, ma qualcuno per caso ha la fancard qua? Ce l'avete? Vai, una a caso con la fancard Sciogliete bene, venite su, dai Dai, Ale, Ale, vieni Ale, sali No, perché diciamolo, questo, allora Ormai sappiamo, tra l'altro, quasi tutti i nomi della nostra... No, tutti, adesso Quasi tutti Perché nel nostro nuovo album, all'interno, c'è una fancard, si chiama Con questa fancard, ai nostri concerti, noi riprendiamo... Ah, scusa se ti interrompo, Petrus, perdona Chi non avesse ancora l'album, perdonami Lì c'è il nostro... Lei ci andai, si chiede anche l'album Da Matteo c'è il nostro album E comunque, con la fancard che c'è dentro, che chiude la fancard, grazie Noi facciamo queste cose, insomma, sui concerti salgono sul palco Devo prendere una più bassa Nooo, non è emozionata Allora, il pezzo che abbiamo dedicato al nostro fan club, nonché alla family Di più dal nostro nuovo album Passatevi davvero a fare casino, ragazzi La grande famiglia a noi Ogni giorno una nuova realtà Viaggiatori stanchi che Riescono vivendo di melodie Noi con voi da un palco al lato sui giù Come un'onda che si espande Vento sulla pelle se vuoi Come noi, basta poco e vedrai Percorrendo lo stivale Ti troverai a cantare Di più Di più Di più Di più Di più È un'emozione che si spalle come una tribù Di più Giù Giù dopo, giorno, noi con voi, sempre più su Fatevi sentire Non ho più fortuna Realizzato i nostri sogni nei tuoi Abbiamo fatto un storia Abbiamo a cuocere musica i nostri cori Come un'onda che si espande Vento sulla pelle se vuoi Come noi, basta poco e vedrai Percorrendo lo stivale Ti troverai a cantare Di più Di più È un'emozione che si espande come una tribù Di più Giù dopo, giorno, noi con voi, sempre più su Chià è un po' Di più Di più Non sembra più su Immagini Giù dopo, giorno, noi con voi Espera un'emozione che si spade Cosa è un po' Capite Chat Tutti Vedrai Non le dico di più, dico di più. Non voglio sentire più da me, lo so che si è spazio come una tribù, dico di più. Giù dopo giorno, noi con voi, sempre più in su, dico di più. Non le dico di più, prendiamo il sogno che si è spazio come una tribù, di più. Giù dopo giorno, noi con voi, sempre più in su, dico di più. Grazie! Grazie mille! Grazie, ragazzi! Sì, meravigliosi, meravigliosi. Adesso non state qui, adesso non mi scappate, perché io sono due ore che cerco di raggiungere, di dire, ma come? In mezzo a tre bei ragazzi, finalmente? No, a tre bei ragazzi, scusami, Sanretto, per favore. Allora, io ho detto... Ma trattami male, ma trattami male! Ma no, lo sai, lo sai che ti voglio prendere. Ma chiude il fumo qualche modo? Allora, io so che in questo momento ci sono delle ragazzine qua che saranno gelosissime, mi stanno invidiando come voi, che mi stanno portando malissimo. Voglio dire una cosa, dopo poi ripresentiamo Marco, Gabriele, Vetro. Voglio dire una cosa che ho notato e che mi fa un grande piacere, perché questi tre ragazzi sono bravissimi, hanno delle voci veramente meravigliose e sensolari. Allora, io qua davanti ho una signora e un ragazzo, ho tanti ragazzi e tanti signori. Posso sperare un secondo? No, 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 non rufinami, questo momento è bellissimo. Sì, sono per due giorni che sono per parlare. No, le ho viste in Italia, conoscevo le canzoni che mi pare, non dirmi se è tua mamma perché... Eccolo di me! No, no, ma comunque non era solo lei, era una fila. Ragazzi, sono o no bravi? Sono o no belli? Senti, io voglio lo so, no, però adesso, adesso, facciamo le navi. Vieni di te, io lo so che tu resterai con me, perché tu lo vuoi e poi tanto sai quanto amore ti darei. Fantastico! Per sempre canto ma tu credimi perché... Noi guardiamo solo voi, sempre. Grazie! Questo per dimostrarvi che prima era un in playback e non sanno cantare questi ragazzi. Per niente proprio, ma dove siete? Ogni tanto gli viene bene, gli viene. Io voglio seguire, cioè io voglio seguire. Allora, per seguirci... Io vi pedino tutta l'estate. Venite tutti a Milano. Lì ci sono già, quindi... Ma la family ci va, vero? La family c'è sempre. Non manca, ma dov'è la family? Dov'è? Grande, ci sono, ci sono. Abbiamo un MySpace che è visitatissimo e noi rispondiamo. Anzi, ci sono anche i contatti in Messenger, ragazzi. Ve lo diciamo. Da domani Messenger sarà praticamente inutilizzabile. Speriamo, speriamo. Senti Sandro, ti prego. Ragazzi, Targa, ecco, io in questo momento ero solo per la Targa, se li hai fatti lei, beata lei, insomma, la voglio dire. Grazie mille. Noi vi ringraziamo. Non poter esimermi. Per noi è un onore poter partecipare a eventi che appunto hanno una causa così onorevole e quindi rinnovo ancora il ringrazio. Grazie del vostro cuore. Grazie. Grazie a voi. Grande cuore, grandi conci. Grazie, grazie mille. Di Studio 3! Grazie ragazzi. Grazie mille. Che emozione. Le rivediamo.